Musica Musica Non lo so Fatto sta che oggi dobbiamo solo vincere questo torneo Continuate come sempre a bombardare questi video di mi piace Arrivano sempre più a 400 Quindi che arrivi anche questo Sarei molto molto felice Ora andiamo a giocarci la prima partita di oggi No vabbè Ma ogni volta sono sempre più belli Guarda lì con London Eye Bellissimo Il tabellone è un po' triste Minimal chic Bellissimo E raga vi avevo lasciato un po' nel dubbio Di chi avrei usato Nel senso che non l'ho detto prima Intanto vinciamo la palla 2 E no no Non cominciamo così eh Oh ecco E guardate un po' chi c'è Raga Provate a indovinare Carmalone Che fa schiacciare Ci vediamo i primi 3 punti E Oscar Robertson Le due leggende che non avevamo ancora provato E sarò sincero È la prima volta che provo questa coppia con voi Quindi potrebbe risultare di tutto Come anche di tutto In senso negativo Cambiamo la palla Magicamente magica Signori Mi avete detto di provare a fare una look Con questa palla Ed è quello che andremo a fare Sì Che rallentatore 4 punti Super combo Ecco perché Ecco perché Ah grazie raga Più di qualcuno me l'aveva detto Bravi bravi Mi piacete quando mi date una mano Ok Allora 9 a 4 si va in vantaggio Direi che si possa farlo più spesso Quella cosa No Salto sempre troppo presto Mamma mia Via così Carmelone Not in my house Signori Altra palla magica Allora altro aliup in arrivo Eccolo qua Eccolo qua Ma ogni volta Questa Vabbè Ma 5 episodi 6 episodi Ci ho messo per scoprirlo Raga Dobbiati su 20 a 10 Con 59 secondi Da giocare Direi che abbiamo messo Abbastanza in cascina Questa partita Siamo un po' Neiboli Siamo un po' Neiboli sulle schiacciate Infatti Volevo dirvelo dopo Ma l'avete visto Benissimo Perché ci ha spazzato via Tutti e due Pure Avendo due carte leggendarie Vorrei anche scoprire Quali siano le abilità Di queste mie carte leggendarie Eccola qua Oh Neanche a parlare Non ho preso neanche il ferro Bene Passiamo al primo Turno Insomma Agli ottavi 24 a 14 Carmelone MVP Con 17 punti Molto molto bene Pure uno su uno da tre Andiamo avanti Ovviamente sono a livello Bronzo Queste due squadre Intanto arriviamo a livello 12 Qui di nuovo Pacchetto per noi Dovremmo pian piano Potenziare le carte A livello Argento E poi oro Uuuuh Quarti di finale Raga Guardate un po' Guardate un po' Scontro Fraticida Carmelone E John Stockton Signori The Meme E il suo braccio destro Stockton Eccoci qua Pronti Hanno pure La divisa di Utah Madonna Momento lacrimuccia Proprio abbiamo pure perso Ah Trappare da qua Ve lo dico Non è neanche cominciata La vedo già male Invece non so come Abbiamo recuperato la palla E facciamo noi I primi tre punti Ok Ho già smesso di vederla male Uuuuh Bello così Grandi Avevo appena detto Che siamo scarsi Sulle stoppate Abbiamo tirata una Leggendaria Vai Oscar Vai Oscar È il tuo momento È il tuo momento Di far una schiacciata E portarci in vantaggio Da Non le scarpette Dio santo Dio santo Dai 10 a 9 Era importantissimo Adesso avere la palla A fare 4 punti Che giuballe E dai Il triplo È salito in cattedra 13 a 9 Sono concentratissimo Perché sto gioco Sembra stupido Ma è difficile Quando ci si mette Eccola qua Eccola qua 5 Il triro perfetto Che bucciata di chiulo Questa Mamma mia Di chiulo Proprio Di chiulo Di chiulo Prendila 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 Che facciamo Il botto qua Il botto Con il doppio Dai Dai Salta Sì Così A 2 secondi Altri 5 punti Mamma mia Back to back 5 punti Incredibile Finisce qui signori 27 a 12 Ovviamente Quel doppio 5-5 Li ha massacrati Steso le gambe Finiamo la partita Con le scarpette Illuminate Ancora MVP Carmalone Con altri 17 punti Tanta roba Questo duo Mi sta piacendo molto Eccoci giunti La semifinale Signori Contro Russell Westbrook Una coppia Stranissima Qui E a King The Dream O Lajon Cominciano ad apparire Le coppie Con i contro Qua Ma con i contro Veri e propri Eccoci qua Pronti per la semifinale Qui sarà tosta Temo che il primo Tentativo Sarà abbastanza Proibitiva Questa cosa Intanto Ci portiamo a casa La palla 2 Che fa sempre bene All'umore Ma soprattutto Arrivato della partita Cominciamo schiacciando 3 punticini Per noi Dobbiamo fare 3 stoppate Su schiacciata Per prendere la coppetta Del coso speciale Si può fare Per l'amor di Dio Si può assolutamente fare Però è tosta Contro questi due Bravo Prendila Ok Super Infatti sta schiacciata Sì così Out of 9 Oh 10 a 2 Partenza super lanciata Uh occhio raga L'orano i doppi punti Su schiacciata Ed è proprio quello Che dobbiamo impedire Grazie alla sfida Intanto noi possiamo avere Il doppio Anche noi però Vediamo cosa ci dà Tiro perfetto Intanto 19 a 7 Li stiamo massacrando Di nuovo I 12 secondi Ottimo Ottimo Va bene Benissimo uguale La mia preferita Rimane comunque la palla Però i 12 secondi Sono altrettanto Micidiali Altrettanto Micidiali Mannaggia Loro Signori 8 secondi La fine Abbiamo maciullati Sul 26 a 13 Io proverei a mettere Comunque anche l'ultima tripla Qui con Oscar Robertson Perché no Infatti la mettiamo Perché no Veramente Finora Non c'è stata competizione In questo torneo Sono veramente sorpreso Da come vanno bene Con i due giocatori assieme Ora Rimane però La partita più importante La finale Eccoci qua nella finale Signori Guardate un po' Qui veramente hanno scaricato Quelli pesanti Per questo torneo Wunderdirk Nostra vecchia conoscenza Di questi episodi E soprattutto Magic Cristo Di copertina Del gioco Nel senso E delle carte Dei pacchetti Cerca di fermarlo L'avete visto raga Spettacolo L'abbiamo preso così E anche i 12 secondi E anche i 12 secondi Ma what the fuck Ma Dai No 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 Perché avete saltato Tutti i 12 secondi Eccoli qua Eccoli qua Mamma mia Si parte subito Fortissimi 5 a 0 E Palla in mano Signore È il momento di mettere Una tripla Ve lo sto dicendo Anche se non mi risponde Che palla così Mamma mia La coppia d'oro Abbiamo trovato La coppia d'oro Uuuuh Stoppatona Anche di un caro Mamma mia Signori La schiacciata L'avete vista? Namaste Ale Occidentali Scarla 10 a 0 Mamma mia Carmanola La schiacciata Per i fotografi E questa non riesco a stopparla Ma Eh ciao Vabbè 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 Raga 10 a 2 Che non ci lamentiamo Veramente mica Stoppalo Bravissimo Ma vai vai Mi dammi qualcosa di figo Noi 12 secondi Va bene Prendiamoci questa tripla Così Proprio a vanverissima Bravo Carletto Prendi rimbalzo Vai 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 Ciccio Vai Ciccio 19 a 9 Di nuovo più 10 Abbiamo pure 37 secondi Di Di quel potenziamento Lì Non so i nomi Raga Scusatemi Io li do I miei nomi personali Che sono quelli Più belli Non fanno tirare Ok Ok Signori Mamma mia Sto torneo L'abbiamo Cioè Eccolo qua Stavo per dire una cosa Ovviamente Poi l'ha persa Wunder Mette il tiro Perfetto Più 5 Ragazzi Si sono riavvicinati Tantissimo In questo ultimo minuto Non so veramente Spiegarmi come Cal Il momento È il momento Esatto Esatto È il momento Di non scherzare più Anche se Fino adesso Non abbiamo scherzato per niente Più 8 Di nuovo Occhio però Perché 8 punti Sto gioco Sono Non dico niente Ma poco via Uh bello Chiudila Oddio Da dove è arrivato Vabbè l'ho ripresa io Per fortuna Per fortuna l'ho ripresa io Vatti a fare No di nuovo Mi ha stoffato Non ci credo Non ci credo Non falli fare L'hally up Con la palla magica Prima l'hanno sprecata Stavolta non la sprecheranno mai Ma Due punti Ragazzi È andata Di lusso Adesso Occhio Perché più 4 Dobbiamo tenere bene la palla Dobbiamo fare assolutamente canestro qua E Malone Vai a farti sta schiacciata Vai No 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 Così Non dirmela Così Non dirmela Così Tiro perfetto Eccolo là Però più 1 Signori Se non perdiamo palla Abbiamo vinto Ci stiamo per suicidare In questa partita Però va bene È un po' bruttino Lo so Però proviamo a fare un po' Di melina Raga No Prendiamoci una tripla No raga Fanculo Ma sentite un po' Ma chi me lo fa fare Io prendo solo giusto Questo tiro qua E pure lo metto Sulla sirena Per vincere il torneo Raga ma Chi me lo fa fare Non si possono far falli qua Cioè Bisogna vincere tante storie 23 punti Per Carmalone Con 9 schiacciate E pure una tripla su 1 Altro nuovo livello Tra l'altro Il livello Tra i vicino I giocatori Avendoci giocato solo per il torneo Non sono ancora arrivati A livello argento Ma Nel prossimo video lo saranno State pure tranquilli Con una situazione E vinto il torneo E ha aperto un open ground In que di Las Vegas Guardate L'immagina Lì deve essere una figata Pazzesca A questo campo Eccoci qua signore Allora Nella fase finale Come sempre Di questi video Nel nostro Mini 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 Pacco Incominciamo da quella destra Raga Come sempre Questi sapete ormai Questi pacchetti Sono poca roba Io non ci ho ancora trovato Niente E la madonna La fiera dei doppioni Però Assango assai Le stivianate Due ottimi lunghi Secondo pacchetto Argentato L'animazione È bellissima Di questi pacchetti Mi piace un sacco Vediamo un po' Se abbiamo un po' Di fortuna Due epiche Clay Drexler E George Gerwin Beh Jimmy Butler E Sean Merino Beh direi Che insomma Per essere un pacchetto Argento Un ottimo Ottimo pacchetto Ora però ragazzi Bandiamo le ciance Andiamo in questo qua Che è il succo Come sapete Di questo mini Pacco opening Finale Ti prego Io sempre invoco Uno di quei due lì Non chiedo tanto Anche Olaju Mi andrebbe bene Per l'amore del cielo L'altra volta L'abbiamo trovata qui Adesso cambiamo un po' Epica Mi sono gasato Per niente David Robinson Molto bene Reggie Jackson Meno bene Giovanni Jackson Molto bene Russell Westbrook Russell Westbrook Signori Eppure una Ehm Tanto più tombo E la la signori E la la Che pacco Facciamoci un applauso Signori Due epiche E una leggenda Russell Uomo della tripla doppia Westbrook Potremmo addirittura Ipotizzare Una coppia Westbrook Roberts Gli uomini Della tripla doppia Eccola qua La tartaruga ninja A nome Russell Westbrook Ha solo 6 Da 3 punti Effettivamente Un po' pochino Però 9 In schiacciata 9 In schiacciata 10 in vigore 7 in velocità 7 in pala rubata E 7 a 2 punti Quindi direi Un'ottima Ottima Ottima E ripeto Ottima Carta E su questo Pack opening Raga direi che Mi piace se lo merita Tutto questo video Perché Non è verso Non è magic Però questo è un lungo Con vigore 10 Praticamente Spero vi sia piaciuto Se non mi piace ragazzi Iscrivetevi al canale Mi farebbe tanto piacere Anche se condivideste Con gli amici Con chi volete Anche con vostra nonna A questo video Un bel mi piace Dicevo I miei social Sono in iscrizione E ci rivediamo domani Con un nuovo video E dopo domani O fra qualche giorno Con l'ultimo Torneo di Las Vegas Di NBA Playgrounds Bella